Ancora avvolta nel mistero la vicenda dei droni in volo su alcune centrali nucleari francesi. Dopo gli avvistamenti dei primi di ottobre, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati denunciati almeno altri 5 nuovi casi. Il governo francese non si pronuncia, ma rassicura sulla non pericolosità delle azioni. Una dozzina alle centrali nucleari a essere state sorvolate da droni in appena un mese, il ministro dell'Interno e la IDF, principale azienda per le energie in Francia, si sono rifiutati di commentare l'accaduto. A chiedere l'apertura di un'indagine, anche Greenpeace, che è stata accusata a sua volta di essere la mandante delle operazioni. L'organizzazione ambientalista è stata in passato autrice di molte iniziative contro il nucleare, compresa quella in cui un suo militante ha sorvolato una centrale atomica servendosi di una paracadute a motore. Il sorvolo di impianti nucleari è punito in Francia con multe fino a 75 mila euro e in casi estremi con il carcere.